I miliziani dello Stato Islamico hanno distrutto il sito archeologico di Nimrud e l'antica città Sirah di Khal Hu. Secondo una fonte tribale della zona, gli uomini dell'Isis avrebbero prima portato via tutti gli oggetti di valore e poi, con un bulldozer, avrebbero distrutto le statue, i resti delle mura, un castello. L'informazione è stata confermata dal Ministero iracheno del Turismo e delle Antichità, che ha emesso un comunicato. Nimrud è una trentina di chilometri da Mossul, città conquistata dall'Isis nel giugno scorso, ed è da Mossul che provenivano le immagini che la settimana scorsa hanno scandalizzato il mondo, quelle della distruzione delle statue e dei monumenti, anche quelli d'epoca a Sirah, esposti nel museo cittadino. Per il governo irachieno è una sfida al mondo che l'Isis intende lanciare distruggendo quei reperti dal valore inestimabile risalenti al XIII secolo a.C.